Io ho una lettera che è dedicata ai professori perché questo istituto, questo Santa Maria che è un'opportunità talmente meravigliosa per tutti, non soltanto per, scusate il fiatone ma non è semplice, ci sono 3-4 gradini qua sotto che io... E volevo, se mi si dà l'opportunità, di ringraziare, che è? Ah ecco che era. Di ringraziare questi docenti che fanno parte... Questa palla rossa dopo mezz'ora inquadra per favore il pubblico. Vai Camillo! Vai Camillo! Mentre Camillo presentava la sua palla rossa... Io ho fatto un po' di fatica per riprendere il discorso che volevo fare. Questi professori che hanno un compito molto delicato, che è quello di istruire questi ragazzi a crederci perché la cosa più brillante, la cosa più evanescente, la cosa più incredibile è che tante volte sembra proprio che loro non ce la facciano e dico ma se non ci credete voi a voi stessi, ma chi ci deve credere? Allora questi ragazzi che stanno qua, che si sono abbracciati, che si sono affinghiati, si può dire? Facciamo un applauso a questi ragazzi. Vai, 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 vai! Sta mette in ansia questo. Ma Camillo, con sta cosa... Vabbè, va. Allora, questa canzone che si chiama Professore è dedicata a tutti i professori che sono in sala anche se ci sono tanti e tanti maestri ma io una cosa volevo dire perché ho fatto tutto il suo discorso perché volevo andare a finire da una... Dai, è questo? Sta a far venire l'ansia. A Camillo? La cosa che ho notato di più è che questi ragazzi al di là del successo della canzone che stanno cantando del video che manderanno su Facebook hanno un solo desiderio che voi genitori siate qua questa sera. Questo non è un applauso. Non ci siamo? Ah! Questo è un applauso. Siete pronti? Ah no, devo cantare io. Vai. Scusate ma... Questo tra feruglio. Mi sono fatto mettere il sedile perché io ho una certa età mazza che lampadina insieme a me le va queste per piacere. E che... A male mi sono fatto la tinta. Fammi le va. No, spegnemi queste palle. Oh, ok. Tutto dal vivo. Ok, vai. 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 Altro che... Passeremo, eh. Professione al basso, eh. Rigore, serietà, belle parole, professore. Fu facile per te brandire certe verità. E il tuo sapere, poi, non sembra soddisfatto il cuore. Riuscire a vivere è tutta un'altra musica. Non puoi punirmi più per le mie fughe, professore. Non puoi punirmi più per le mie fughe, professore. Stancora sei di guerre vinte mai. Che... Pagina di giovine. Pagina bianca e noi, poco l'inchiostro giovinezza. Trovarsi un alibi, mentre quel tempo ci illudeva. Non ti va nel tuo programma, sai, non era inclusa la paura, lo devi ammettere, non basta solo la cultura. Professore, lo devi ammettere fuori dal libro, è molto dura. Grazie, 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 grazie. Grazie, è la cosa che dico ogni volta che finisce la lezione, grazie ai ragazzi perché se ci si illude di essere noi gli insegnanti sempre, si sbaglia sempre, perché con i ragazzi non solo si insegna ma quasi sempre si impara. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.